A te la parola Juve. Ciao ragazzi sono tornato come potete vedere e niente siamo qui oggi che cercheremo di simulare questo Juve Roma vediamo come andrà a finire per ora una piccola premessa non stiamo prendendo un risultato praticamente capita tutto l'opposto di quello che succede quindi io quindi dal tifoso juventino spererei quasi di perdere sapete già cosa scommette se volete fare la schedina quindi il contrario di quello che succede va bene partiamo sennò vi rompete come tutti sapete le formazioni sono un po così nel senso che i nuovi acquisti non ci sono niente io penso che ora in attacco con Ken che è una cosa pietosa però Ken svegliati Ken Shiro becca dei nomi ho dimenticato ah e poi oltre a Ken Ugan in difesa con con Alessandro cioè praticamente Pank e Ciccio mira il pompenso non ha di bala ce l'ho io il Pank partiti via dai facciamo il culo alle Juve come sempre cerchiamo di farlo sarà due no è più duri lì bene devi vedere la Roma come dice lui che l'ompiglio diverso eh sì la linea di passaggio è chiusa ma adesso è andata bene questo partitrante che li metterà solo davanti la porta non so non ti metto io davanti la porta del carcere esci eh va che dai muoviti vedi un cazzo vuoi Patricio muoviti dai lo scambio schifo non so quella roba lì no è te è te non è possibile Federico ma era già chiuso dai ma che cagatà chiesa grazie sei troppo stanchi sei troppo stanchi per le Mago Kronach come dice hanno le scuse scuse di Narnia eh scuse eh non li fai neanche vedere che schifo è questo replay qua ma è Siva che fa cagato è bellissimo guardalo guardalo un po' guardalo guardalo eh sì bello mamma mia che brutto il gol del cavallo esatto che vuoi vantaggio che brutto il gol bellissimo bella la chiusura bene come siete eh bello 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 tira via dalle scatole dai ci vai tira più per schifo ahah può venire la rabbia ottimo ottimo bravo ma che ti alzi cosa fai? e va che no è schifo è un exandro ahah va no non ci dai non ce lui vao per fare che toia che toia sì lo bebe Juan Juan oh è troppo Juan Hebram dai, ma tu vuoi aiutarmi? ma che roba mi tira giù bravo ma la nostra ma che schifo hai inviato si si, guarda l'altro l'hai fatto eeeh che botta dietro è veribile ormai con Geroper lì ci provo? no, da quando ci provo niente purtroppo attimo dai, ma arrivaci ma che ballo eeeh che voglio appoggi una mano la voca ti ho munito capito? è schifo dai fadaccio, sto bellissimo la voca la trovo rete implacabili implacabili rete eeeh la specialità la va a segnare a chi è? vero è tu pensaci tu vero è tu la concede e la sbattono dentro perin perin ma non fa il paperin stavolta guardate che anche tecnica esultano ed è uno e uno è il sedicesimo Juve che deve ricominciare da qua eeeh no, niente fuori troppo fuori ottimo ottimo che roba si prendono il rischio perchè sono tecnici i miei giocatori guardate che giocate è uno spettacolo questo è uno schifo invece bella eeeh smoling veramente smoling hai fatto un numero pazzesco e anche te hai fatto un lancio incredibile dai corri bastardone dai fatti vedere i tuoi compagni ottimo a nulla no fighe non ho visto nulla no fighe incredibile no niente fighe fallo non è niente proprio sai cosa vuol dire il nulla? dai papi rende però che sfida già non credo no rambo fighe fallazzo è morire a mancera fighe perdonami le mezza vado a mancera fighe va a cagare fighe me ne perdona una adesso vado a coprire qua davanti la prendo eeeh guarda che roba eeeh rischio tutto l'oretti ottimo l'apertura bellissima belle 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 zagnolo 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 passaggio bruttissimo di zagnolo ma la palle fuori calcio d'angolo calcio d'angolo calcio d'angolo calcio d'angolo tutta la vacca spisa spisa non tradisce mai smalengo ottimo bella roma con spinazzola che avanza in tre l'area di rico spinazzola ma che schifo hai fatto arrivo 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 ma lo recupera benissimo che roba ragazzi benissimo ma che cosa fai uno schifo hai fatto chiudili no niente facile facile lo spisa vai su ma che roba con i piedi l'oretti chi sa fare finta guarda eh rischio troppo mamma mia dai tu f*** adesso siamo in 30 dai 10 10 10 10 non sbagliano niente eh bravo anche te sei bravo non ascoltarli sono cattivi bene se la scambiano questi bravi ragazzi qua vai su luta eh corri bravo eh che bravo ma sei bravissimo è in mezzo oooop 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 dai capimo ma dai ma fai schifo quell'assist lì cos'è? beh ottimo come questo fa schifo ottimo? dai corri sei bravissimo spinosola noooop rosso dai ma rosso ma ti schifo e va che è solamente giallo ti devo fare clamoroso veramente clamoroso assurdo veramente guarda qualche roba e questo qua lo tira gioco schifo facendo anche la faccia da vampiro vera e tu spatti dentro da lì ci provi uno schifo su subito quanto piedi perché diamo? spisa spisa perché diamo? sei un duro ti fido lui ma ti ammazza eeeh rabbio rabbio ebbe la scenda che te lo dico ottimo dai è bella è bellissima che esiste quella ragazza qua non lo siamo nessuno rabbio non ce la fa rabbio espulso non ce la fa trattenersi deve tirarlo giù e viene espulso ciao rabbio come viene espulso? e beh hai detto un munizio? no era Locatelli prima e poi pizza qua no veramente ma era Locatelli ma era Locatelli? ma era Locatelli? no ma incredibile ah è vero era Locatelli è facile vieni ti sto mettendo in mezzo vai no spero facile via arrivo arrivo orca puttana dai dai pressali pressali che va bene no il tunnel no eh il tunnel ti ammazzo rientra prima fa subire subisce il tunnel e poi rientra e la prende lui bravissimo qui rischio al solito scambio bellissimo come al solito per un niente attenzione ah ah è rischiato tantissimo lunghissimo va scherzi con il compagno in area anticipati bellissimo ma che fallo wow che coscioltezza ti parli la scioltezza ti parlo adesso bravissimi 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 è ottimo veramente eh fallo tollo è fallo ma figa era fallo mi ha tirato giù mi ha la spallata di Rougani spesso si è stato rogane stavo cercando di fare il golio ma ti vedi qualcosa c'era figa mi ha tirato c'era una spalla che era più alta della mia testa era incredibile sgomitato via in area di rigore niente è successo per l'arbitro là ti svegli e fallo stavolta stavolta è un po' d'usorea ma che spino è non so se è fondamentale non lo fa cazzate dai e devo farlo se arriva no da lì non lo farò ok andiamo a marcare un terraria aurendo bello complimenti complimenti ha 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 bellissimo patricio ruido metta a terra bravissimo genialo e finisce 1-2 come tempo questi i dati in possesso incredibile dell'arora devi fare qualche cambiamento? no allora andiamo avanti via cerca di uccidere a bion non si può buttalo fuori campo cambiamo ok partiti per il secondo tempo vediamo se riusciamo a più di subito si bravissimo bellissimo veramente proprio sulle linee di passaggio bravi ottimo è ottimo è bellissimo il Sharawi no io Abra ti devo ammazzare se ti rendi conto dell'azione tutto quasi di prima arriva questo qua il Sharawi in mezzo per Abram e Abram mi sbaglia quel gol qua e fuck che roba lo stavo appoggiando lì ascolta ma non c'ho mica per caso Zecco in qualche Zecco in l'Inter non te lo volevo dire eh ma già qualche anno che gioca in l'Inter ha capito? però magari qua c'è non volevo dirtelo eh non volevi dirlo? no ah il Palma gioca in via ah ok no no ah 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 fallo ragazzi qua ha rischiato una punizione incredibile che li ha rischiato e va che ancora il rimpallo il rimpallo me spassa via ottimo dai spissa via bravissimo corre però ora corre aggiornamenti qua aggiornamenti qua aggiornamenti di là ma che roba è? bravo bravo che ma ha fallo? ha fallo? ha fallo? che c'è i numeri e va che roba che numeri difensivi ragazzi una roba da matti ma roba incredibile rischio della Roma che dribble in aria di rigore in maniera pazzesca non si fallo? ah boh purtroppo si incredibile basta niente vado a marcare in merda che meglio via via che lavoro chi sei? chi sei? chi sei? perché è impossibile adesso parto da? bravissimo bella di prima per i saraoui il faravone rientra la mette in mezzo bravo annullare ma che lavoro ma che lavoro maazzo bella è bella l'inbucca bellissimo non è che lo sai inquadramo inquadriamo la tristezza no ma è incredibile ma è incredibile ci baglia un gol impossibile poi lo meriterebbe di beccare il gol ma è incredibile non lo meriteresti no incredibile è bella è bella è bella è bella è bella benissimo calcio d'angolo per la roma ma roba è da male benissimo quando viene da solo un vulcane la mano è che lo ha continuato a far uscire mette in mezzo spizza dai guarda in mezzo dovevi spizzare ma che roba ma che roba ah ciao ken bravo bravo ma lo vede di la ma che roba bravissimo un gol salvato praticamente incredibile dai oh ma e si presa alta bellissimo dai dai qua vammela che la giusti qui che ho la tecnica oh bravissimo bravissimo ma che sfigato no no va bene fallo insomma rischiò troppo figlio era troppo rischioso ottimo non è come un niente va bene giustiamo vabbè ottimo bis dai che il telecerca l'uovo bravo e va che roba l'ho buttato via praticamente capito capito da loro bravissimi quella sua è bravissima ancora lo c'è aca e va che è bravissimo zagnolo zagnolo figlio di zagnolo niente fuori però ecco uno ottimo ma è salito bravo ua che che schifo ha eh figlio che cioffacamento mamma mia che schifo si al tiro i tre non hai due ma i tre no ragazzi no ragazzi te spizzi adesso mi fa che ti schifo via ottima questa è aca di culo ho dato una palata non sono uscito ma va che che lavoro gli appuntano come di e va che che culo hanno no ma no ma no figlio puntualissimo bravo Ken Ken mi sembrava mi sembrava mi sembrava ottimo ottimo no venga fallo nettissimo la vita ma hai schifo bello ma che che lavoro hai bello no vado pure ammazza è fuori ostacolato a spintoni che lavoro che ho stretto a spintonare a buttarla via la palla chiudo bella spizzi ottimo niente buonissimo accede fa culo di prima ti mostro? no ottimo si ma ci arrivi però non ci arriva nessuno fallo? lo distrugge lo poter e fa che bello mamma mia che anticipo è a chi? si eh si adesso un po' che che lavoro dove è andato? bravissimo cazzo d'angolo bella chiusura dai chiudono eh plug spizzali bravissimo te spizzala bravissimo no fai schifo ottimo culo bella ottimo bravam guarda l'inserimento per Escha bellissimo ci mola bravissimo bravissimo che viene steso come un animale un sessicciotto si sposta sinistra a destra che incredibile rada rosso guardate qua sinistra a destra appena in tempo all'examen guardate qua vedi qua e poi va di la e va che lo tira giù che brutto dobbiamo assorbire un'altra punizione eh si te la buttiamo dentro anche questa che c'è per te qui ha rete sicura oppa la deviazione era troppo vicina non era facile bisognava alzarla l'obb vabbè metti in mezzo pericolo dai a nulla a niente eh scusa qualcuno c'è scusa tornate ok ma che schifo va bene ottimo ottimo bene nostra nostra è nostra è nostra è nostra è nostra è nostra grande triangolo vai via nostra ancora eh si dai dai un aroma che nel finale cerca di portarla a casa incredibilmente ottimo si ma che che sfiga ciò incredibile ma che che lavoro lo ammazzo lo ammazzo ma chi ma che troppo ha fatto ma che fanno quelle ragazze lì ok bella roma niente te la lo dico mi porto sfiga da sola bello inserimento qua però di arthur no pellegrini scusate pellegrini bellissimo avanti copre il pallone bravissimo pellegrini e dribbia l'uomo lo salta come un pomo e tenere di rigoro due passi da portiere non c'è cosa fare corso in mezzo bellissimo e bravo rugami e la saliva un'acqua di roma un'acqua di roma incredibile spesso in mezzo della roma niente non c'è il cazzo non c'è il cazzo mamma mia un'azione tambureggiante della roma a tre passi del portiere va bene la fortuna ci sono quelli bravi niente dai finisce così dai uno uno e quindi ovviamente non finirà dai andiamo il contropiede facciamogli il culo proprio all'ultima azione bella niente va bene ultima azione per la roma ma che a due secondi alla fine un'ultima shard di buttare il pallone in mezzo vediamo se qualcuno si fa vedere magari oh fatti vedere però l'azione bella ultima vai ottimo seminari di rigore il saraoui copre il pallone cerca il rigore il saraoui numero di saraoui che cerca il rigore non lo trovo ma che incredibile mi fisco ed è finita uno 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 tutto nei primi quindici minuti statistiche finali niente una roma che meritava qualcosa di più ma finisce così uno uno foto di rito saluti a tutti saluti grazie a tutti